salutate bene tornate in questo ovviamente è possibile risolvere il problema riguardo ai suoni fastidiosi oppure rumori fastidiosi sotto casa tua se si sentono se il microfono riesce così a catturare questi suoni sgradevoli nel microfono quindi in questo caso grazie anche alle impostazioni di OBS Studio è possibile ridurre il rumore così facendo si sente solamente un lato voce e non si sentiranno più i rumori esterni come un clacson di una macchina un cane una persona che sta orlando quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro microfono cattura l'audio in entrata inseriamo così il nostro microfono io lo tengo sempre sui meno 15 decibel qui meno trattino 0.6 il tasto destro sopra filtri riduzione del rumore facciamo su più e metti riduzione del rumore sensibilità d'ingresso su più sensibilità d'ingresso e file quindi copi le stesse impostazioni che ho messo io metodo air noise una qualità più uso della cpu e sensibilità dell'ingresso ho messo tempo di attivazione 25.000 secondi tempo di attesa 200.000 secondi tempo di rilascio 150.000 secondi soglia di chiusura ho messo meno 32.000 decibel e qua meno 26.000 decibel mi trovo veramente una meraviglia faccio sempre tutorial con questa impostazione qua con questo settaggio sulla registrazione del microfono quindi mi trovo una meraviglia quindi se hai altri problemi commenta sotto al video se ti è stato utilissimo questo video iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao